Restano stazionari i contagi covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Sono 2413 nuovi casi su oltre 24.000 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Quasi invariato anche il tasso di positività pari al 9,9% dato che sale fino al 47,5 se si considerano soltanto le prime diagnosi escludendo i test di controllo. La campagna vaccinale nel frattempo in Toscana raggiunge quasi quota 8,7 milioni di somministrazioni di cui 2,3 booster. Ad oggi i maggiorenni sul territorio con ancora neanche una dose sono circa 280.000. Si tratta di uno zoccolo duro della popolazione che sembra ormai irremovibile sulla decisione, inutile o quasi pure l'arrivo nelle scorse ore del vaccino di Novavax di vecchia generazione e quindi teoricamente meno sgradito a chi teme gli effetti dei più moderni farmaci mRNA. A prendere l'appuntamento per la prima dose sul portale regionale online nelle prime due ore di apertura erano stati pochissimi toscani, neanche 500. Il click day Novavax dunque non ha dato gli effetti sperati dalle autorità sanitarie. Del resto, nelle scorse settimane si erano abbassati notevolmente i numeri delle prime dosi anche con i vaccini finora disponibili. Segno che i dubbiosi sono stati quasi del tutto intercettati ed ora restano solo o quasi gli irremovibili.